buongiorno buongiorno buon giovedì buon giovedì 20 maggio benvenuti benvenuti a mattino insieme come tutte le mattine in apertura cerchiamo di commentare di raccontarvi i fatti gli eventi delle ultime ore e come tutti giovedì mattina abbiamo ospite in studio vita trentina questa mattina nella persona di augusto goio buongiorno augusto buongiorno a te e ai telespettatori cominciamo con il titolo di apertura di vita trentina che noi proponiamo in anteprima questa mattina nasce la prima laudato si di che cosa si tratta augusto si nasce in trentino una comunità laudato si legata all'enciclica che ha fatto fece così scalpore sei anni fa l'enciclica di papa francesco la cosetta enciclica ecologica anche se è riduttivo definirla in solo in questi termini una enciclica complessa corposa che invita a un'attenzione al creato che passa anche da un'attenzione possiamo dire anche dai piccoli gesti vita quotidiane arriva fino a toccare i grandi temi dell'economia della finanza globali e su spinta della diocesi di rieti e dell'associazione slow food hanno cominciato a nascere delle comunità dei gruppi di persone libera associazione di persone che vogliono promuovere i temi di questa enciclica di papa francesco di cui appunto ricordiamo i sei anni proprio in questo mese di maggio e promuovere questi temi legandoli appunto a una attenzione maggiore a una economia più rispettosa dell'ambiente del creato e quindi anche delle persone di conseguenza presentiamo in due pagine la nascita di questa prima comunità trentina che si affianca alle oltre 50 che già esistono in italia e che si auspica possano crescere di numero per aumentare la consapevolezza su questi temi che sono in fondo anche echeggiati anche sulla grande stampa sui grandi media nazionali proprio parlando di recovery plan di uscita da questa pandemia che appunto alla quale si lega anche il il tema appunto della di una ripresa economica che però non potrà essere come come era come era prima sia in prima pagina che poi nelle pagine interne proponete un focus sulle apt sulla riforma delle apt proprio in questi giorni chiaramente di grande attualità al turismo la ripresa un po del turismo anche con le nuove aperture proprio di questi ultimi giorni ecco che riflessione proponete proprio sulla riforma delle apt che sta arrivando a compimento proprio in questi giorni in queste settimane siccome dici correttamente è un entrare nel vivo diciamo la riforma del turismo avviata nel nell'agosto 2020 dall'assessore failoni e con questa azione di riduzione del numero delle aziende di promozione turistica che da 15 diventeranno 11 nascono quattro ambiti di area per la promozione che sarà affidata fondamentalmente solo a trentino marketing la società della provincia che già si occupa di questo alle nuove realtà che vengono create e che rispondono come possono leggere i lettori di vita trentina anche come è una delle critiche che viene mossa questa riforma anche a un po questioni di campanile e queste nuove realtà dicevo si occuperanno sostanzialmente della promozione dei prodotti del territorio è una piccola rivoluzione che in parte accontenta in parte scontenta come sempre di fronte a dei cambiamenti ne parla in maniera piuttosto critica carlo guardini che ora in pensione ma è stato a lungo si è occupato proprio di promozione turistica fin dagli anni 90 e lui se non sbaglio è stato anche proprio direttore della pt trento monte bondone e valle dei laghi lui è sicuramente un grande esperto e mi parli capire che non lesina le critiche insomma questa riforma della riforma non salvo nulla dice addirittura no sì è un giudizio abbastanza tranciante che in parte per alcuni aspetti anche condiviso da chi comunque si occupa di questa di questa materia noi abbiamo sentito le voci alcune voci del territorio in particolare la pt di la realtà di rovereto e poi la realtà di fiemme soprattutto su alcuni accorpamenti di zone turistiche c'è chi così ha avuto da ridire e uno degli aspetti importanti a riforma comunque che le nuove realtà le nuove pt dovranno sostenersi per il 51 per cento con fondi privati è una azione di sostanziale privatizzazione che vedremo poi come potrà essere effettivamente tradotta in concreto sul poi nella nello sviluppo i futuri e quello effettivamente un po la grande scommessa di tutto il progetto torniamo alla prima pagina di vita trentina dove parlate di due libri in occasione dei 70 anni della federazione delle scuole materne sì la federazione delle scuole materne raggruppa molte scuole dell'infanzia equiparate quindi non parliamo delle scuole provinciali dell'infanzia ma di quelle equiparate che sono penso valga la pena ricordarlo in realtà che sono nate storicamente per rispondere proprio dei bisogni della delle comunità per iniziativa privata e poi via via siccome appunto l'aspetto educativo richiede sempre maggiori competenze in qualche modo è quello che offre appunto la federazione come servizio a queste scuole equiparate dell'infanzia in occasione del settantesimo anniversario che deve svolgersi proprio in questi in questi giorni è stato rinviato all'autunno per motivo della pandemia sono usciti due libri in stampa usciranno a fine mese sono disponibili per ora nell'edizione digitale li presentiamo con delle interviste agli autori e alle autrici e quello che emerge che possiamo dire proprio in sintesi nel tempo che c'è concesso qui è che la riflessione sull'educazione è una cosa faticosa e questi libri nascono proprio dalle esperienze delle scuole equiparate c'è un lavoro appunto di pensiero dietro forte e questo in qualche modo ci fa anche riflettere e pensare sulle scelte talvolta frettolose che vengono fatte anche nel campo dell'educazione dell'infanzia all'età dai 3 ai 6 anni che come nel caso insomma della scelta di prolungare a luglio che ha creato malumori e ha portato a uno scontro come vediamo in questi giorni tra assessorato tra provincia e sindacati delle scuole materne la riflessione sull'educazione invece richiede probabilmente di fermare le bocce e ragionare insieme. Che riflessione propone il direttore Diego Andreatta nel suo editoriale editoriale che è intitolato la sindemia accentua l'allarme demografico. Chiariamo subito il termine sindemia che siamo forse più abituati al termine pandemia ma sindemia in qualche modo ci riporta a un discorso di pandemia globale come spiega bene il nostro direttore Diego Andreatta. Lo spunto sono gli stati generali della natalità che si sono svolti in questi giorni con l'intervento del premier Mario Draghi che ha parlato in maniera molto chiara sulla necessità per l'Italia di reagire a una prospettiva di quello che nel gergo degli detti ai lavori viene chiamato l'inverno demografico, vi ha fatto riferimento in più occasioni anche il Papa Francesco la prospettiva di avere meno di 1,5 figli a coppia porterebbe l'Italia a un calo delle nascite ancora più significativo di quello già attuale che è già un trend molto preoccupante e il nostro direttore appunto ragiona anche partendo dai numeri e dalle parole di Mario Draghi per offrire una riflessione a tutto tondo su questo aspetto e come è stato detto agli stati generali della natalità la risposta è quella di offrire servizi, offrire opportunità anche alle giovani coppie e opportunità anche perché le donne possano conciliare i tempi del lavoro e della famiglia ma direi le donne e anche gli uomini Parliamo brevemente ora anche di sport, di calcio in particolare si avvicina la Serie C per il Trento e vorrei così farti raccontare Augusto anche un piccolo dietro le quinte per far capire anche proprio ai nostri telespettatori come lavorano i giornali come lavoriamo noi giornalisti era già pronta, mi hai raccontato la pagina, l'apertura proprio sulla promozione del Trento Sì, mentre vediamo queste immagini della partita del Trento che ha giocato proprio ieri mercoledì in caso di sconfitta dell'altra contendente al titolo anche se è molto indietro nella classifica l'Arzignano che se non avesse vinto avrebbe lasciato già da ieri ogni possibilità di poter in qualche modo rincorrere il Trento in questa promozione attesa e agognata alla Serie C quindi poteva essere effettivamente molto diversa la prima pagina di Vita Trentina in caso appunto si fosse verificata questa eventualità ora attendiamo invece domenica ma in ogni caso ieri eravamo pronti in redazione a ribaltare completamente la prima pagina per festeggiare un'eventuale già promozione del Trento non vogliamo poi portare male alla squadra aspettiamo comunque domenica e vedremo se già domenica potremo festeggiare insieme ai tifosi trentini Ti chiedo una curiosità Augusto a che orecchi chiudete il mercoledì sera Vita Trentina? Diciamo che le ultime pagine vanno poi consegnate spedite alla tipografia per via telematica intorno alle 18-19 in caso di eventi particolari possiamo anche ritardare è successo insomma in alcune circostanze che abbiamo chiuso anche quasi verso la mezzanotte ma come si dice a ogni morte di Papa Restando ai temi sportivi lo sappiamo che la prossima sarà la settimana del Giro in Trentino c'è molta attesa soprattutto per la tappa quella che arriva alla Sega di Ala Sì lunedì 24 maggio aspetteremo questa tappa del Giro c'è questa tappa di montagna questa salita con pendenze veramente impegnative alla Sega di Ala vedremo poi appunto di seguire anche noi per i nostri lettori questo appuntamento del Giro il Trentino è proprio famoso per le numerose salite che in alcune circostanze hanno anche determinato il risultato poi finale di questo importante appuntamento sportivo che conserva tutto il suo fascino e il suo richiamo di pubblico che è quello che accompagna anche lungo le strade fortunatamente anche ora che almeno in Italia la situazione pandemica va verso un miglioramento e come abbiamo visto anche ieri in occasione della Coppa Italia si può anche finalmente tornare allo stadio e quindi aspettiamo anche il pubblico lungo questa importante salita che attende il Giro come sempre Vita Trentina pone molta attenzione alle valli dalle valli questa settimana che cos'è che ci segnali Augusto? mi soffermerei su un caso qui vicino a Trento quello di Cadine dove il medico ha deciso di non tenere più il secondo ambulatorio riceverà appunto i suoi pazienti solo all'ambulatorio di sopramonte si potrà dire una distanza abbastanza ridotta ma sicuramente per delle persone anziane o che hanno difficoltà a spostarsi è comunque una perdita di una realtà importante come quella del medico nel servizio curato da Gianfranco Piccoli vediamo appunto gli aspetti che fanno problema in questo caso è un piccolo esempio comunque che vuole essere appunto esemplificativo emblematico comunque di una attenzione che è di servizi che è una richiesta che viene dai territori anche da Pergine c'è un pezzo molto interessante sì abbiamo il caso di una la bella vicenda di una vocazione una vocazione adulta come si dice quella appunto della suora Paolucci che è una 31enne fisioterapista che ha fatto un percorso di maturazione personale e alla fine ha scelto di fare la professione solenne e è diventata monaca trappista a Vittorchiano questa bella realtà monastica molto conosciuta anche per i santini che produce che troviamo anche nelle nostre librerie trentine io ringrazio molto Augusto Goio giornalista di Vita Trentina che è stato anche questo giovedì mattina nostro ospite grazie infinite Augusto e buon lavoro grazie, grazie a te che è dell'ospitalità grazie a te grazie a te che è stato